Questa è... la fine! È finita. Tu credi che finisca tutto con me? Ci sono dodici nazioni che sostengono gli ingegneri. Che sostengono me! Siete pronti a combattere dodici guerre? Uccidimi. Uccidimi. E le nazioni insorgeranno. Processatemi. E io svelerò al mondo tutti i segreti che conosco. Io ho già vinto! C'è sempre un'altra opzione. Quanti proiettili ha questo coso? Nel caricatore di base ci sono 20 proiettili. Tieni il dito sulla sicura o bucherai l'aereo. Calma. Ehi, Briggs! Cos'è? La mia pistola. Sì, è lui che fa fuori dalla gabbia. Grazie, Briggs. È sempre un piacere. Mi sta istruendo sulle armi. Sono un membro della squadra ormai, eh? Sì, continua a sognare, Cobin. Bentornato, Briggs. Che bello vederti, Grimm. Che si dice? Lo rendono ufficiale. Che gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione conclusasi con l'uccisione di Majid Sadik. leader del gruppo terroristico conosciuto come Ingegneri. È la prima volta che parlo con un morto. Chi sei? Andiamo con ordine. Ringraziamo le donne e gli uomini che hanno lavorato coraggiosamente per consegnare i terroristi alla giustizia. Il mondo non vedrà il loro lavoro. La storia non ricorderà i loro nomi. Ma il loro sacrificio non verrà dimenticato. Vic...